Avrà inizio venerdì 24 febbraio la prima edizione del Festival Tra le Vare in Preghiera, organizzato dall'Associazione Giovedì Santo. La Kermess, ideata dal nuovo direttivo guidato dal Presidente Arcangelo Gianmusso, si svolgerà dal 24 febbraio al 18 marzo, presso la Sala Espositiva del Levare in Via Napoleone Colaianni e la Cattedrale Santa Maria la Nova. Il Festival apre le porte della Sala Espositiva alla Cittadinanza, donando momenti culturali e religiosi al tempo stesso. Il programma è disponibile sulle pagine social dell'Associazione. Per la prima volta alla fondazione dell'Associazione Giovedì Santo si è voluto organizzare un festival che preparerà la cittadinanza ai prossimi eventi pasquali. Il programma prevede una serie di eventi religiosi e culturali che vedono protagoniste prestigiose realtà nissene e regionali e la partecipazione straordinaria degli attori Salvina Fama e Mario Sorbello. La direzione artistica dell'evento è affidata al Nisseno Francesco Daniele Miceli. Ci sarà spazio anche per due rassegne musicali tradizionali della Settimana Santa. Nello specifico ne avremo una diretta dal Maestro Ivana Stella a cura dell'Associazione Musicale Giuseppe Verdi e una diretta dal Maestro Salvatore Bonafini a cura dell'Associazione Sicilia e Musica. Ad anticipare gli eventi per ogni venerdì ci sarà anche una via Crucis preseduta dai parroci di tutte le parrocchie della città. Invito la popolazione tutta a partecipare. L'ingresso è gratuito e già da oggi i biglietti sono disponibili sul sito eventi.giovedisanto.com